Della Monica e Yannick Coccon, abbiamo visto inquadrato Walter Rizzo che è il loro coreografo che li segue e vogliamo vedere anche i loro programmi loro hanno ottenuto un dodicesimo posto alle Olimpiadi, sesti ai campionati europei lo ricordiamo, Yannick Coccon è originario della Francia di Crosaico, molto bene entrata difficile nel lift cambio in posizione, discesa sulla mano ho perso leggermente l'unisono ma recuperato subito hai all'uscita twist doppio una spirale un vivo non preciso del lift lanciato so sta Grazie a tutti. Grazie a tutti.